Pensare che il fortissimo movimento di opinione che si è aperto in Abruzzo e fuori dall'Abruzzo abbia potuto influenzare in qualche modo la decisione dei giudici farebbe torto tanto alla magistratura quanto alla nostra intelligenza. Fatto sta che per ora la battaglia dei cervi è vinta e a vincerla sono stati quelli che hanno voluto fortissimamente salvare la pelle a 469 esemplari condannati a morte random dalla regione Abruzzo che certo aveva le sue ragioni sia chiaro dalla sicurezza degli automobilisti a quella degli agricoltori anche se i più maligni hanno aggiunto anche l'interesse dei cacciatori elementi comunque importanti dei quali in altre regioni si è tenuto conto per passare alle vie di fatto ma non qui la regione verde d'Europa la stessa regione dalla quale è partito il video che vedete diventato virale i cervi spensierati fanno un tuffetto nel lago San Domenico chissà se avevano già saputo della sentenza a loro favore emessa dal Consiglio di Stato dunque ricapitoliamo al momento la notizia del giorno è questa non saranno abbattuti i 469 cervi bersaglio della delibera della giunta regionale è il Consiglio di Stato sezione sesta che sospende così il provvedimento della regione i giudici di secondo grado hanno ribaltato l'ordinanza del tarra abruzzo che aveva rigettato invece il ricorso delle associazioni ora sarà proprio il tarra pronunciarsi di nuovo nel merito come stabilito dal Consiglio di Stato esulta l'avvocato Michele Pezzone che ha curato il ricorso seppure in una fase cautelare abbiamo fatto affermare un principio importante sulla necessità di effettuare i monitoraggi previsti in sede di valutazione ambientale del piano faunistico venatorio e mai effettuati monitoraggi su base annuale che avrebbero dovuto a raccogliere indicatori sull'incidenza del prelievo dei cervi rispetto ad altre specie protette come lupi e orsi mai come in questo caso conclude l'avvocato Pezzone abbiamo sentito l'affetto e il sostegno dei cittadini di un'intera regione che hanno seguito ogni passo di questa avventura i cervi ringraziano